ma non c'è fatto l'altro? io c'è ma io sono arrivato adesso ma io mo' sono arrivato qui ma prima ci ha metto io c'è troppo spine 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 un comune che è diventato sporco è pieno di erbacce c'è il pericolo che le persone si possono fare male guarda quanto spine eh già mi sono fatto male io non 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 non